Una vittoria fondamentale per conservare il terzo posto dopo la seconda fase prima dei play-off, una gara durissima, quella che si è giudicata la passalacqua sulla Jessam Luke a termine di un match sempre giocato sui binari dell'equilibrio, nel quale alla fine la formazione Ibley ha trovato la lucidità necessaria per portare a proprio favore, aggiungendo con piano piano due punti alla propria classifica. 70-53 il finale dell'incontro che ha visto Derek Embi che ha spotroneggiare sotto canestro, mettendo infatti 25 punti a segno raccogliendo 14 rimbalzi e facendo registrare un più che eloquente 40 di valutazione finale. Si arriverà una vittoria anche domenica prossima in casa, quando Gorino e compagni affronteranno Napoli, che ha perso a Venezia, sarà terzo posto matematico, dal momento che la squadra di Molino non potrebbe più raggiungere Ragusa, che si troverebbe con 4 punti di vantaggio e gli sconti diretti a favore a due partite dalla fine. Era una partita difficile e complicata perché non giocavamo da un mese, ha commentato Recupido, e si è visto perché soprattutto all'inizio non avevamo il ritmo partita. Siamo stati comunque bravi a riprendere VVL di scorso e per la prima volta in una partita non ci siamo persi, non smarrendoci in attacco contro una squadra che fa dalla difesa il proprio marchio di fabbrica.